Ciao a tutti amici di SeneMarkware, quest'oggi andiamo a fare l'unboxing della nuova Asus Poseidon Platinum, una scheda particolare in quanto può essere affreddata sia a liquido che con affreddamento stock ad aria. Come possiamo vedere dalla scatola nella parte frontale troviamo il logo ROG, il nome della scheda e il nome della serie. La scatola presenta l'apertura al libro che nella parte inferiore ci mostra la scheda con le due ventole a 90mm mentre nella parte superiore troviamo alcune di Tascalie riguardanti le caratteristiche della scheda. Possiamo notare che la scheda può essere usata a liquido e guadagneremo 24 gradi centicali rispetto alla soluzione reference GTX 780 usando questo tipo di raffreddamento. I raccordi compatibili sono i G1 1 quarto di pollice che sono le più comuni. Poi in alto a destra troviamo specificato il tipo di VRM usati per questa scheda e sono controllati da un controller di Gikolas proprietario di Asus. In basso troviamo specificato che la scheda possiede un LED ROG che si illuminerà quando la scheda sarà attiva. giriamo la scheda della scatola. Allora nella parte posteriore troviamo l'immagine scomposta della scheda e possiamo vedere che è dotata di un backplate in alluminio. Ha un pcp di colore nero con 3GB di RAM, il chip e il 10xRM. Abbiamo il primo sistema di raffreddamento che ha camere di vapore e queste camere di vapore possiedono un liquido a basso punto di ebollizione che è scaldato dal chip si trasforma in vapore e tale vapore può essere riportato allo stato liquido tramite l'uso del water cooling o raffreddato da dissipatore in alluminio dalle rispettive due ventole in alto a millimetri. Le specifiche tecniche di questa scheda sono che il chip è un GTX 780, C-Force, possiede PCI Express 3.0, 3GB di RAM, il GPU Boost Clock è di 1.6MHz, il GPU Base Clock è di 954, il Memory Clock è di 6.080. La Memory Interface è di 284 bit e la risoluzione massima supportata è di 4K. Andiamo ad aprire, inoltre abbiamo tre anni di garanzia. Andiamo ad aprire la scatola. la scatola interna si presenta con colorazione nero opaca e con la finestra che abbiamo visto precedentemente. Scusate i riflessi, togliamo questo. Allora, come possiamo dire la scheda è protetta all'interno di questa imbottitura e all'interno della scatola troviamo la scheda che mettiamo da parte per questo momento, per il momento, e troviamo il bundle che accompagna la scheda. Allora, troviamo un adattatore, Molex, 8 pin, uno sticker ROG, e infine troviamo la manualistica, il CD, driver e installazione. Togliamo tutto. Adesso vi facciamo vedere la scheda. Eccola qui. Allora, come possiamo dire, la scheda presenta un tipico design ROG, nelle schede video ROG, quindi una colorazione nera opaca unita a una colorazione rossa, con inserti bianchi che troviamo nel logo Republic of Gamers e nel nome della scheda. Frontalmente troviamo la copera del distillatore in alluminio, in plastica, e le due ventole a 90 mm che vanno a raffreddare i radiatori in alluminio sottostante. Girando la scheda possiamo vedere il logo ROG che si andrà a illuminare di rosso quando la scheda sarà attiva, i due connettori G un quarto di pollice. Come possiamo vedere i connettori sono abbastanza restrittivi. Poi troviamo tre pipes, due da 6 mm e una da 8 mm, che vanno a trasferire il calore dalle camere di vapore, che sono questa placchetta, al radiatore, che sarà raffreddato dalle due ventole. Le camere di vapore, come abbiamo detto, possono essere raffreddate anche mediante l'impianto al liquido e quindi usando questi attacchi. La sezione di alimentazione è formata da un 8 pin e da un 6 pin. Inoltre troviamo gli attacchi per mettere più schede in parallelo, fino a 4 schede. girando la scheda troviamo il backplate in alluminio spazzolato con il nome della scheda, il logo ASUS e il bollino di garanzia. Quindi se vogliamo cambiare pasta termica o usare un waterblock di terze parti perderemo la garanzia. Qui in basso troviamo gli attacchi per controllare il voltaggio. Qui in basso troviamo infine lo slot per il pitch express, l'attacco per il pitch express. Infine i connettori 8 pin e 6 pin sono forniti da due led di notifica che ci segnalano il corretto funzionamento degli attacchi. Posteriormente non troviamo nulla di che, a parte l'estensione del dissipatore in alluminio che va a raffreddare la sezione di alimentazione, che ricordiamo essere 10 fasi. Per ingressi video abbiamo una displayport, un altra dmi, un advii e un advid. Inoltre come possiamo vedere la scheda si estende oltre il bracket pitch express. Quindi abbiamo un pcb custom. Allora per questo video unboxing è tutto, vi rimandiamo alla recensione scritta della scheda per ulteriori foto, benchmark e con nostre conclusioni finali. Quindi dallo staff di Estremar per tutto, un saluto al prossimo video unboxing. Ciao!